Salve a tutti, con questo video volevo spiegare una dinamica molto importante, fare la volontà di Dio. Come possiamo noi capire qual è la volontà di Dio? Questo è molto semplice, ma prima devo rispondere a una domanda che mi hanno fatto, chi sono il gruppo dei guerri spirituali? All'anzitutto devo dire che è un gruppo di persone semplici che operano nel silenzio e nel nascondimento, questo per smascherare il male, cioè noi liberiamo le persone oppresse dalle vessazioni di persone malvagie che attentano alla salvezza delle loro anime. Quindi è anzitutto un gruppo di persone comuni e radicate nella fede. Non siamo associati in nessun ente pubblico. Non abbiamo una sede, non abbiamo un numero di contatto. Ci incontriamo in posti occasionali, come può essere un bar, una biblioteca, o in stazione, o in un market. Quindi operiamo sotto copertura e tutte le operazioni sono monitorate e sincronizzate. Il nostro gruppo ha già generato altri gruppi paralleli con lo stesso carisma e che oggi sono autonomi, cioè si sono staccati dal nostro gruppo per creare un gruppo autonomo e si sono uniti in forma privata al gruppo OEL S.P.A. a Socio Unico, che garantisce un programma di protezione dove operano più di 400 avvocati che lavorano in forma gratuita, oltre ad altri professionisti delle diverse discipline, come possono essere gli antropologi, gli psicologi, i canonisti, i teologi, ci sono i pensatori quantici, oltre alle forze dell'ordine, ai magistrati e a tutte quelle persone che lavorano per intercettare e tracciare clan e sette che mettono scompiglio tra la brava gente. In qualche parola possiamo dire che il grano fa morire la zizzania che gli è a fianco, perché la zizzania ritoglie il nutrimento e la luce di Dio. Quindi il gruppo OEL agisce nel silenzio e non c'è nessuna traccia sul web, ma non fa la corta fondi come le altre associazioni, ma ci autofinanziamo, come il carisma di San Benedetto, come per i monaci Benedettini che si mantengono col lavoro delle proprie mani. Ora passiamo al tema di questa settimana e comincia dal titolo del video, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco, volevo soffermarmi sulla parola obbedienza. Quindi sulla terra è presente questo ponte che sono le istituzioni pontifice, quindi obbedire alla Chiesa, al Magisterio della Chiesa, alla dottrina imposta dal Catechismo della Chiesa cattolica, al nostro parroco, oppure al nostro superiore, o all'insegnamento dei padri della Chiesa, ma questa obbedienza è data anzitutto da Gesù, che è stato obbediente al Padre fino alla morte in croce. E Gesù dice, chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Dice proprio ha la vita eterna, non avrà la vita eterna. Come possiamo noi avere la vita eterna? Attraverso le nostre opere, il bene che facciamo per gli altri. Queste opere sono strettamente legate alla fede che abbiamo in Gesù, perché Gesù stesso lo pretende. Chi crede in me ha la vita eterna. Quindi il primo requisito per fare la volontà di Dio è la fede. Ricapitoliamo. Noi abbiamo la vita eterna già su questa terra, ma non ancora. Quindi siamo nel già e non ancora. Cosa significa? Significa già che la nostra anima è già in cielo, ma attenzione, solo se il nostro nome è scritto in cielo, mentre il nostro corpo è ancora sulla terra. Attenzione, questo non lo dico io, ma lo dice San Paolo, lo dice nelle sue lettere. Quindi rivolgetevi a lui per questa affermazione. La fede necessita di un'altra virtù fondamentale, la speranza. La speranza che a un certo punto diventa certezza. Quindi il secondo requisito per fare la volontà di Dio è la speranza. Ma se noi leggiamo San Paolo, ci accorgiamo che c'è un altro requisito che è più importante dei due precedenti, la carità. San Paolo mette la carità al di sopra di tutto. Non si può fare niente senza la carità. Quindi il terzo requisito per fare la volontà di Dio è la carità. Allora, cari seguaci, dovete sapere che per operare la carità occorre un'altra virtù importante, il coraggio. Il coraggio di parlare. Il coraggio di predicare che Gesù è risorto. Se noi prendiamo le letture al Vangelo dei giorni scorsi, che sono tratte dagli Atti degli Apostoli, notiamo il coraggio degli Apostoli che predicano nel Tempio e annunciano che Gesù è risorto. E questo ha la presenza dei sommi sacerdoti, cioè i quali hanno messo a morte Gesù. Allora, la verità non si può tacere. Adesso, cari amici e cari amiche, fate attenzione al prossimo passaggio che è importante. Allora, se credi nel Figlio di Dio, vivi per sempre. Cosa significa questa frase? Tu vivi per sempre, non gli altri. Tu vivi per sempre, non quelli che ti circondano. Io sento sempre persone che si lamentano dei sacerdoti o dei religiosi, del parroco o del vescovo. Ma, ripeto, tu avrai la vita eterna. Tu risponderai delle tue azioni e non delle azioni che fanno gli altri. Tu vivi. Tu avrai la vita eterna. Il tuo compito è solo quello di dare l'esempio agli altri. Ma non rispondi del loro rifiuto. Non rispondi della violenza che ti fanno. Loro risponderanno di questo davanti al tribunale di Dio e a te lo devi interessare come va il processo con Dio. Non sei chiamata a testimoniare perché i malvagi sono testimoni di loro stessi. Tu avrai la vita eterna. Allora, se avrai fede, speranza e carità, diventerai santo già su questa terra. Queste sono le cosiddette virtù eroiche. Virtù di un eroe che dà coraggio nell'affrontare le vessazioni degli empi, dei bulli, dei prepotenti. E di questo vorrei dare io stesso testimonianza. Ogni volta che proclamo la parola di Dio alla gente del mondo, della secolarità, succede che sempre vengo criticato, insultato, calunniato. Mi mettono etichette come matto, folle, testardo, ostinato. Dicono che mi devono ricoverare, che devo farmi vedere da uno psichiatra o da uno specialista. Questo solo perché non mi conformo alla mentalità della gente mondana. Cioè, non mi conformo alle loro azioni malvagie. Ecco che viene fuori il mio coraggio. E vi assicuro che sono così coraggioso che anche davanti al mio abate potrei dire Devo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma considerate che l'abate opera in persona a Cristi. Quindi obbedire a l'abate equivale a obbedire a Dio. Ora mi trovo in una comunità meravigliosa. Oggi vivo come eremita in un piccolo paese della provincia di Bari e non conosco nessuno in questo paese e neanche nel villaggio intorno la mia masseria ma sento la vicinanza della gente che mi vuole bene. E so che mi chiamano il solitario oppure c'è gente che mi chiama l'eremita. Gente semplice che affronta ogni giorno le difficoltà della vita. ci sono stati nella storia numerosi santi che hanno creato centri di recupero ospedali oratori case di accoglienza ma qua in questa zona la persona oppressa la persona maltrattata la persona oltraggiata trova ricovero nelle case della gente dove trovano conforto calore accoglienza e la gente si fa in quattro per non fargli mancare niente gli danno tutto il necessario di cui hanno bisogno e tutti gli aiuti per placare le sue ansie le sue perplessità le sue angosce io quando vado in paese per commissioni molto raramente vedo sui volti delle persone spensieratezza gioia felicità ma vi assicuro che nel loro cuore portano i loro drammi familiari i loro disastri le difficoltà nella dare avanti portano nel cuore la tristezza che nascondono con un sorriso perché non vogliono trasmettere agli altri la loro tristezza non vogliono dare i loro pesi agli altri non vogliono contagiare con la negatività agli altri perché sono positivi perché vanno tutti i giorni a messa perché pregano perché si affidano alla Madonna e ai Santi questo è il coraggio e questi sono i veri cristiani concludo dicendo che anche gli apostoli sono stati frustati per aver predicato che Gesù è risorto ma è scritto anche che erano lieti di essere stati oltraggiati in nome di Gesù erano felici perché Gesù ci rende felice e ci rende anche liberi e con questo video è tutto e arrivederci al prossimo video grazie a tutti